Ciao cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui con le nostre notizie su Engina Kurek. Dichiarazione terrificante di Engina Kurek. La nostra salute non è più buona come prima. Tutti i dettagli saranno nel mio video. Prima di passare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. Engina Kurek, uno degli attori più famosi della Turchia, ha sorpreso i suoi fan con le sue ultime dichiarazioni. L'attore ha emozionato i suoi follower facendo una dichiarazione allarmante sulla sua salute e anche i suoi fan sono molto curiosi nei confronti dell'attore. Ecco i dettagli di questo evento inaspettato. A Kurek ha rilasciato dichiarazioni sulle sue condizioni di salute durante l'intervista. Guarda cosa ha spiegato l'attore sui suoi recenti problemi di salute. Ad essere onesti, la mia salute non è più buona come prima. La dichiarazione di A Kurek ha scioccato i suoi fan e i media. L'attore non ha fornito informazioni dettagliate sulle ragioni dei suoi problemi di salute, ma ha affermato quanto segue. È da molto tempo che cerco di affrontare questi problemi. Questa affermazione sulle condizioni di salute di A Kurek ha profondamente rattristato i suoi fan. Dopo l'intervista in cui Engina Kurek ha rilasciato dichiarazioni sul suo stato di salute, i social network e la stampa scandalistica hanno subito iniziato a condividere questa notizia. Condivideremo con voi gli sviluppi riguardanti la salute e la vita privata di A Kurek. L'attore Engina Kurek ha annunciato che continuerà a lavorare nonostante i suoi problemi di salute. Amo il mio lavoro ed è una passione per me. I problemi di salute non dovrebbero fermarmi, ha detto. La decisione di A Kurek riflette la sua dedizione e determinazione nella recitazione. Grazie a tutti per aver guardato il mio video. Arrivederci. Ci vediamo con nuovi video.